In Sicilia da lunedì sarà finalmente tempo di rialzare le saracinesche per le attività del commercio al dettaglio, parrucchieri, estetisti, bar e ristorazione. Questi ultimi due fin qui avevano potuto fare soltanto servizi a domicilio e a sporto. Adesso invece potranno ricevere la propria clientela all'interno dei locali, naturalmente dotandoli di tutte le misure di protezione. Roma, evidenzia il presidente della regione siciliana nell'Homo Sumeci, ha finalmente condiviso le proposte contenute nel documento unitario delle regioni. Pertanto lunedì apriranno le attività del commercio al dettaglio, i servizi alla persona, i bar e la ristorazione. Per le altre attività il governo non ha dato il disco verde, ma noi governatori contiamo di ottenere già nelle prossime ore la necessaria autonomia per decidere su ulteriori riaperture. Abbiamo inoltre chiesto e ottenuto, proseguo I Musumeci, che le misure di protezione da adottare nelle attività autorizzate da lunedì siano meno restrittive rispetto a quelle proposte dall'Inail. Non appena il governo contemannerà i provvedimenti annunciati, firmerà la necessaria ordinanza. Per quanto riguarda le linee guide, la distanza tra i tavoli nei luoghi di ristorazione sarà di un metro e non di quattro metri quadrati, mentre l'accesso potrà avvenire soltanto previa per notazione. Distanza di un metro anche in spiaggia e tra bagnanti e lettini è di dieci metri quadrati tra ciascun ombrellone nei lidi, mentre sulle spiagge libere si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Più complicato per i barbieri e per i centri estetici, dove quando non sarà possibile rispettare la distanza di un metro bisognerà tassativamente utilizzare la mascherina.